salve a tutti ragazzi oggi voglio farvi vedere come mettere la nodus 1.5 per prima cosa dovete scaricare su questo link di mediafire il pacco dopo di che io faccio vedere il download che ho fatto vi aprirà questa va bene come sostituisce vi darà questo voi dovete aprirle e ti darà un minecraft giallo voi dovete fare così spostarlo questo e ve lo estrarà finitelo dopo dovete fare percentuale app data percentuale roaming.minecraft bin cancellare questo minecraft qua fare così elina e mettere quello che abbiamo spostato sul desktop in quello scaricato e così chiudete chiudete questo e mi raccomando dovete avere minecraft chiuso voi aprite minecraft io mi metterò a me dentro con questo che è l'account per younger games vedete 1.5 andiamo su giocatore singolo fatto un po' di tisa prima il ruolo ci sarà cosa vedete e poi c'è è sempre noto su 1.5 non c'è fregatura non c'è niente qua sempre senza roba avete la le cose tutto tutto da 1.5 quindi non è 1.6 si può vedere anche da qua vabbè adesso spero che vi sia stato utile io vi saluto e iscrivetevi al canale ciao